Dopo un intenso programma culturale durato una settimana, consegnati nel complesso delle basiliche paleocristiane i campanili d'argento ai vincitori della diciannovesima edizione del premio Cimitile. Il presidente della fondazione, Felice Napolitano, è già pronto per l'edizione del prossimo anno quando il riconoscimento nazionale compirà 20 anni. La promozione del libro come veicolo di promozione culturale, etica e civile. In questi anni il libro ha incontrato le basiliche tra arte, storia, letteratura e religione in un felice connubio che ha rappresentato e rappresenterà senza alcun dubbio un'occasione di sviluppo turistico, culturale ed economico della regione Campania e di tutto il meridione. Quest'anno per la prima volta è stato itinerante, come è andata negli altri paesi? Sì, direi molto bene il premio Cimitile tra Ager, Nolanus e Valle del Clanis, archeologia, arte e letteratura dove vari comuni del territorio si sono messi insieme per creare rete, fare sistema e dare una spinta propulsiva dal basso e accelerare quel processo di sviluppo di tutto il territorio e di tutta la regione Campania. Protagonisti della serata le firme più prestigiose del panorama giornalistico e letterario nazionale con la prima azione di un'opera inedita. La serata è stata condotta da Eleonora Daniele e Michele Cucuzza. Ad aprirla sono stati artisti affermati come il soprano Felicia Bon Giovanni, molto suggestive sono state le esibizioni canore delle bellissime serie Nautieri e Carima. Ottima la performance di Michele Placido tra gli artisti Riccardo Foglie e Fausto Leali, mentre tra gli ospiti Gino Riviecio con la sua consueta verba e premio speciale al procuratore antimafia Franco Roberti. È una soddisfazione perché questo ormai è un premio storico, è un riconoscimento importante, è un riconoscimento al lavoro non solo mio ma di tutti i gruppi che diciamo ha avuto il piacere e l'onore di dirigere in questi anni, è un riconoscimento ai valori della legalità e della giustizia che è sempre importante. I campanili d'argento sono andati al direttore del Tg1 Mario Orfeo, al presidente di RCS Libri Paolo Mieli, al giornalista del Corriere della Sera Sergio Rizzo, agli scrittori Giovanna Ferri e Bruno Arpaia e all'esordiente Barbara Miceli. Il complesso e il premio sono stati valorizzati dalla regione Campania come sottolinea l'assessore Pasquale Sommese. Il generale Campania ha messo in campo all'interno del Grand Tour una serie di eventi che vedono anche questo territorio all'interno dell'itinerario numero 3 che va dal Partenio al Vesuvio e vede come baricentro la valorizzazione di un complesso paleocristiano, il primo campanile della cristianità ma soprattutto che risponde alle caratteristiche di un turismo integrato, valorizza il luogo, il luogo mediante il libro, letteratura, saggistica, è un elemento caratterizzante che vede la regione Campania inquadrare e sostenere queste iniziative.